Allora, spirito no, la sensibilità, sì è proprio una sensibilità diversa, quindi quando non c'erano le artiste donne noi eravamo privati di questa sensibilità in più, cioè è diversa. E questo è molto interessante, però non si può dire che c'è un'arte maschile femminile, anche perché io trovo che ha arricchito anche gli artisti maschi questa sensibilità, quindi è una cosa curale poi.